Buongiorno a tutti, siamo con il candidato Premi. Mi dica, qual è il suo programma elettorale di quest'anno e soprattutto come vuole invogliare i giovani di votare? Beh, niente, io ai giovani prometto tanta ma tanta patata, tac ma patata, cioè, quelle che dico io. E poi ci sarà tanta ma tanta neve, ma neve, neve. I giovani dal punto di vista lì sono tac tutelati. Perfetto, grazie mille. Patata, neve, patata, patata, questa è la patata e questa è la neve che ha promesso. Un cazzo l'anno prossimo ti voto. Votantorio, 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 votantorio. Votantorio, italiani, elettori, inguilini, coinguilini, casigliani, quanto sarete chiamati alle urne?